buon di oggi parliamo di come scegliere una sigaretta elettronica in base al tipo di batteria che monta molta gente si chiede spesso devo comprare una sigaretta elettronica con batteria integrata come queste tre che potete vedere qui o con batteria sostituibile come questi due modelli allora andiamo ad analizzare un po i due tipi di sigaretta elettronica allora queste che hanno batteria integrata le più accattivanti le più comode quelle che hanno più riscontro sono queste a forma di tubino generalmente le più piccole hanno dei milliampere inferiori le più grandi hanno dei milan per superiore e quindi consentono magari anche di svapare tutta la giornata senza doversi portare appresso batterie di scorta di scorta questa in particolare a 3000 milliampere quindi diciamo che uno svapatore all'inizio se non è di quelli che si attaccano a ciuccio così si dice alla sigaretta elettronica riesce comunque tranquillamente a fare magari anche più di una giornata sempre a seconda dell'atomizzatore che ci monta sopra perché ci sono degli atomizzatori che richiedono maggiori potenze di erogazione e alcuni che ne richiedono minore in genere chi si avvicina al mondo dello svapo utilizza dei sistemi da tiro di guancia e quindi delle resistenze che richiedono minore elettricità diciamo così per funzionare per cui si può fare anche una giornata con una batteria di questo tipo con una batteria di questo tipo ora faccio vedere la batteria è solo questa è questa è la batteria batteria integrata non si può aprire questo tubicino ha un bottoncino per attivarla e nel momento in cui è esausta ha una sua vita può durare alcuni mesi a seconda di come viene utilizzata come la si ricarica la manutenzione se vi cade nell'acqua muore ovviamente dopo questi mesi di utilizzo la si butta via e se ne acquista un'altra oppure si cambia modello perché ormai si è stufati di quel modello e si vuole provare qualcosa di nuovo ora viene da sé che questa batteria per esempio è 1100 mAh e questa abbiamo detto che è 3000 viene da sé che se una persona in particolar modo magari una donna che va in giro con la borsetta vuole avere un sistema un vaporizzatore personale una sigaretta elettronica discreta piccola come può essere questa che vedete io non ho le mani grandi piccolina proprio quindi da borsetta diciamo può fare un'uscita con questa 1100 mAh tranquillamente ci fa quelle ore di uscita quella mezza giornata e la mette in borsa sta tranquilla ne può anche può mettere in borsa due complete oppure una completa e un tubino batteria di riserva da tenere nella borsetta e così è sicura di farci la giornata magari qualcuno invece può preferire un sistema più grande più ingombrante più pesante col quale magari fare l'intera giornata però attenzione molti pensano ok io tutto il giorno consumo questa batteria da 3000 mAh magari non completamente perché c'è un indicatore qui si illumina so se lo vedete a seconda dei del numero di flash che fa indica più o meno lo stato di carica questa è circa la metà della carica quando fa questi flash così lenti più vanno veloci flash più si sta scaricando la batteria mina di massima sono un po tutte così queste e dicevo uno svabotore dice ah beh vabbè allora io faccio tengo questa solo questa voglio questa me la porto dove dovunque io vada non importa che è un po ingombrante quando torno a casa la sera prima di andare a dormire la metto in carica no è pericoloso tenere in carica tutta la notte qualsiasi tipo di dispositivo elettronico anche i cellulari oltre al fatto che si accorcia notevolmente la vita della vostra batteria o del vostro cellulare non è bene tenere in carica tutta la notte questi dispositivi elettronici quindi si può optare per una di quelle piattine col timer cioè voi attaccate alla corrente la ciabatta che ha un timer e che la impostate non so avete visto che per caricare questa batteria da 3000 miliamper ci vogliono circa tre ore la impostate sulle tre ore dopo tre ore quello stacca l'erogazione della corrente voi dormite tranquillamente la batteria si è caricata quando vi svegliate dopo otto ore di meritato riposo sapete che non avete sovraccaricato la batteria o non è successo nulla non non ci sono stati incidenti durante la notte e questo per quanto riguarda le batterie integrate ora per quanto riguarda invece batterie integrate le mettiamo un attimo da parte per quanto riguarda invece le bat le box con batterie intercambiabili qui abbiamo due modelli molto commerciali ora vi faccio vedere questa mamma mia dei magneti fortissime difficilissime ad aprire alla sua batteria all'interno è un modello così anche questo questo modello molto venduto allora si svita questo tappo e all'interno c'è la batteria allora la cosa che io trovo molto comoda è quella di avere intanto una box piccolina perché non è molto grande guardate ve la faccio vedere vicino a questa che è molto piccola guardate quanto è piccola non è molto grande però in più ha la possibilità di modificare il vattaggio quindi andare a gestire l'erogazione e quindi questo comodo display che da anche un'altra serie di informazioni non è complicata da usare basta leggere il libretto istruzioni o vedere dei video su youtube è molto piccola molto compatta permette di alloggiare diversi tipi di atomizzatori possiamo metterci quello che vogliamo qua sopra quindi io adesso provo a metterne un altro mi faccio vedere un altro montato qui sopra quindi io alla fine ormai esco soltanto con questa ovviamente ecco dipende dall'atomizzatore ci mettete già diventa un po più grandina con questo però alla fine il peso non è eccessivo il design è accattivante ci sono molti modelli di box ormai in commercio anche molto carine la cosa comoda è che potendo sostituire la batteria voi è vero che vi dovete portare due cose appresso cioè vi portate questa più la vostra batteria ora io prendo questa al caricatore e la metto in questo astuccio di silicone questo è fondamentale perché se le batterie vengono in contatto con delle chiavi o degli oggetti metallici possono sfiatare sfiammare scoppiare quindi quando le si conserva in borsa o in tasca è bene sempre usare uno di questi astuccini questo è un astuccino in silicone ingombra pochissimo ingombra quanto la batteria praticamente è un accessorio essenziale da avere quando si decide di acquistare una box con batteria sostituibile questo perché perché la comodità di queste box è proprio quella di avere una box da nel caso questa batteria eroga 3 mila milliampere di potenza a al suo interno una batteria da 3 mila milliampere e poi nella borsetta in tasca comodamente abbiamo un'altra batteria da 3 mila milliampere da poter sostituire quindi è come se andassimo in giro con due di queste con la l'aspetto positivo in più che qui sopra possiamo montare ciò che vogliamo e decidere l'erogazione da dare all'atomizzatore che abbiamo montato sopra quindi se si vuole svapare di guancia di polmone a battaggi più alti e battaggi più bassi è possibile farlo tramite le freccette e decidere quanti watt deve erogare la nostra cella ora tutti dicono vabbè la spesa diventa maggiore io sì la spesa diventa maggiore però se considerate che mentre la vita di queste batterie ha un termine e poi buttate la batteria vi resta il vostro atomizzatore dovete comunque comprarne un'altra magari non sarà più in commercio perché sono usciti modelli nuovi diventa un po scomodo il tutto invece con queste qua vi rimane questa box la vedete come è conciata adesso io l'ho addirittura grattata per fare l'effetto velluto ma è abbastanza vecchia questa in uso quotidianamente non so la batteria non mi funziona più la butto ne compro un'altra spendo 9 euro al massimo è perché batterie costano anche di meno e ho comunque la mia bella box funzionante posso stare tranquilla allora una spesa iniziale di una trentina di euro per la box due batterie per diciamo 18 20 euro e sono già 50 euro più un atomizzatore ce ne sono ottimi da 20 30 euro siamo 80 euro più un caricatore esterno per batterie siamo un'altra ventina di euro insomma con 100 euro avete un sistema che vi permette di svapare veramente veramente per molto tempo con un'ottima autonomia potendo provare sulla box tantissimi tipi di atomizzatori perché alcune di queste batterie con cella integrata hanno dei vattaggi massimi che possono essere bassi per il sistema che voi volete montarci sopra mentre qui non c'è problema cioè faccio per dire prendiamo questa questa è da 1100 milliampere sopra io ho montato un melo 3 mini ha delle resistenze che richiedono ci sono quelle che richiedono dai fino ai 60 watt e delle resistenze che si possono montare in questo atomizzatore che richiedono anche 80 watt ecco questa penso che arrivi massimo a 50 watt di erogazione e quindi viene da sé che io premo il tasto però più di tanto vapore non ne faccio mentre se molto lo stesso atomizzatore qua sopra io posso decidere quanti watt dare a quell'atomizzatore nei limiti ovviamente del vattaggio massimo di questa box questa in particolare eroga al massimo 75 watt ma ce ne sono che erogano tranquillamente 80 100 watt ce ne sono tantissime in commercio quindi si è difficile scegliere la prima sigaretta elettronica oppure qualcuno dice voglio qualcosa di più performante ecco per più performante si intende qualcosa sulla quale posso montare diversi tipi di atomizzatore prima di capire quello che fa per me secondo me questo è il performante di una sigaretta elettronica per cui ricordandosi sempre di caricare esternamente le batterie ora sono uscite molte box che prevedono anche la possibilità di caricarla interamente ma non ha molto senso perché la comodità delle box con cella intercambiabile è proprio quella che mentre io sto caricando la mia cella nel caricatore nel frattempo ne ho messo un'altra dentro sto continuando a usare la box non devo aspettare che si ricarichi e questa è un'altra cosa molto scomoda delle sigarette elettroniche con batteria integrata una volta che si è scaricata o ho l'altra batteria oppure la devo ricaricare tramite il cavetto usb e nel frattempo che faccio mi accendo una sigaretta analogica no anche perché questa si ricaricherà in un'oretta e qualcosa qua ci vogliono già tre ore per ricaricarla una cosa del genere quindi bisogna fare una scelta ponderata io opto per le batterie integrate nei momenti in cui ci vuole uno tipo di svapo più modesto oppure meno invasivo nel senso che magari siamo un matrimonio a una cena in un ristorante vogliamo fare due tiri va benissimo qualcosa del genere anche perché non abbiamo in quelle circostanze magari non facciamo dello svapo compulsivo quindi si giusto quei due tiri magari per assumere la nicotina che ci serve in quel momento per cui va più che bene il sistema del genere invece con questa possiamo anche decidere di montare su un atomizzatore che non faccia sti nuvoloni come nel mio caso tenerla per lo svapo discreto però sempre piccolina è piccolina però è sempre una box quindi il mio consiglio spassionato è acquistare questo tipo di sigaretta elettronica per smettere di fumare e affiancarla ad un sistema un po' più più portatile adesso ci sono tantissime pod mod in giro che permettono appunto di svapare in maniera più discreta caricandole magari di nicotina così se siamo a un pranzo fuori casa tiriamo facciamo due tiri la mettiamo subito via e assaggiare liquidi su questa provare gli atomizzatori su questa imparare a rigenerare con degli atomizzatori rigenerabili su questo tipo di modello e poi invece avere di riserva qualcosa da portare in spiaggia al ristorante alle cene quando ci si veste eleganti e così via questo è il mio consiglio non vi preoccupate perché non è difficile la gestione di questa qui non è non è complicato cioè si svita oppure c'è lo sportellino come in questo caso c'è lo sportellino sotto si svita si toglie la batteria si rimette si mette a ricaricare quando è carica la si toglie la si mette nel guscio protettivo in silicone è finito è più complicata la gestione dell'atomizzatore della gestione di una box con batteria intercambiabile detto questo vi invito a darmi indicazioni su eventuali argomenti da trattare se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale lasciate dei commenti costruttivi o distruttivi dubbi domande delucidazioni grazie a tutti e buona svapo grazie a tutti